Proseguono gli incontri organizzati da Hauser Taranto, questa sera un tema davvero interessante con un geriatra e cardiologo, il dottor Lantone, le malattie dell'età avanzata. Ovviamente l'hauser si occupa di una fascia di età abbastanza avanzata e quindi bisogna considerare le patologie correlate all'età per vivere una vita migliore, per avere consapevolezza dei propri limiti, per sapersi gestire e per vivere il più a lungo possibile in condizioni ottimali. Presidente Arpaia, questo impegno dell'hauser proprio come campagna educativa. Sì, è una campagna educativa che stiamo proseguendo da diverso tempo, è molto importante per gli anziani perché devono conoscere le malattie tipiche della loro età, perché molte volte se non si conosce si crea allarmismo, quindi conoscere e sapere che dei malanni sono tipici dell'età fa stare, fa vivere meglio, cioè si vive tranquilli e fa vivere anche tranquilli chi sta vicino alla persona anziana. Perché molto spesso si sentono tante notizie, vengono notizie che vengono distorte, invece con la presenza di uno specialista, cioè l'anziano conosce e quindi sa come deve affrontare le situazioni che molte volte sono impreviste. Quindi stasera e anche poi in seguito il dottor Lantone, stasera iniziamo... Perché è un geriatra, è un cardiologo, è un medico dirigente dell'ASL, quindi è una persona che sta a contatto sempre con la gente e quindi chi meglio di lui può dare anche da un punto di vista diciamo umano, cioè dare dei suggerimenti, dei consigli, ma soprattutto far conoscere, infatti lui il dottore tramite delle videate, le cosiddette slide, cioè porta a conoscenza i nostri anziani che fa bene, queste conferenze fanno bene non solo agli anziani ma fanno bene anche ai meno anziani e quindi ai giovani che vivono con gli anziani. Siamo con il dottor Giuseppe Lantone, medico specialista presso l'ASL di Taranto, specializzato appunto in cardiologia e geriatria. Allora dottor Lantone l'età media si è allungata però ovviamente bisogna assicurare una qualità di vita adeguata. Quali le patologie dell'età avanzata? Dunque l'età avanzata comporta un rischio di fragilità nell'anziano che è legato alla comorbidità, cioè l'associazione di più malattie e l'uso di più farmaci nell'anziano quindi possono essere le cause di una fragilità che poi possono portare diciamo all'allettamento quindi la sindrome all'allettamento dell'anziano che poi diciamo può peggiorare anche il suo stato psicofisico e quindi anche portarlo a morte. Fragilità che comunque noi cerchiamo di prevenire sin dall'età dei 50 anni perché non dobbiamo dimenticare che l'osteoporosi ad esempio in tema del tessuto osseo è una malattia che colpisce l'anziano sì ma l'anziano che ha un deficit di vitamina D già dalla tenera età, c'è un'età tenera nel senso di quando si è giovani adulti quindi ai 50-60 anni bisogna prevenire magari introducendo la vitamina D e il controllo della vitamina D è fondamentale e viene comunque effettuato dai medici oggi. Per quanto riguarda poi le malattie dell'osteoporosi comunque previene curandola ci previene la frattura del femore che è frequente nell'anziano ma noi oggi comunque grazie anche a una chirurgia avanzata in ortopedia riusciamo ad operare anche oltre i 100 anni come è proprio stato il caso qui a Taranto del nostro primario molto bravo che è l'equip dottor Scialpi che insieme alla sua equip ha operato una donna di 104 anni quindi questo vuol dire che la geriatria ha dato un input a tutte le diciamo specialistiche per diciamo attivarsi e attivarsi nonostante l'età diciamo nonostante le varie problematiche. Ecco dottore c'è un'altra problematica quella psicologica sicuramente l'anziano molto spesso si lascia andare perde quelle stimolazioni esterne si rinchiude in se stesso e come dire inizia un processo degenerativo a livello cerebrale forse anche una come dire una psicosomatizzazione. Diciamo intanto che si è tenuto proprio nell'ultimo congresso nazionale di geriatria a Roma una sessione dedicata alla demenza senile che poi noi abbiamo diversi tipi di demenza e tutti pensiamo all'Alzheimer in realtà l'Alzheimer si manifesta nel giovane adulto con una sintomatologia tipica che è quella più aggressiva e quello che lei dice giustamente l'aspetto psicologico è quello diciamo che comprende il delirium spesso questi soggetti sono agitati e quindi vanno sedati o tranquillizzati la sedazione diciamo diventa più un fatto coercitivo per noi geriatri e quindi bisogna saper gestire i farmaci e la gestione dei farmaci in questi pazienti è molto difficile ma perché bisogna personalizzarla quindi diciamo che l'attenzione che si dà nell'anziano fragile anche con un inizio di demenza è proprio questo stato di agitazione psicomotoria che è frequente e noi ovviamente dobbiamo fare attenzione ad usare e saper maneggiare i farmaci. Dottor Lantone è molto importante la prevenzione di qui l'iniziativa con l'Auser di Taranto proprio per come dire dare dei suggerimenti ecco delle lezioni chiamiamole così affinché l'anziano sappia autogestirsi. Sì di fatti noi già dall'anno scorso abbiamo iniziato degli incontri diciamo sociali ma anche carattere scientifico dove diamo delle indicazioni sulle malattie dell'anziano agli anziani che sono oggi diciamo normali e che possono attivarsi come caregiver cioè come portatori di salute e come con gli amici anziani coetanei magari che sono a letto o hanno difficoltà diciamo motori. Quindi diciamo preparare gli anziani di oggi nella gestione anche dell'anziano diciamo coetaneo o più vecchio è importante quindi stiamo offrendo gratuitamente queste lezioni con la dottoressa Arpaia qui nell'Auser Filo d'Argento quindi preparandoli con delle tematiche che sono l'alimentazione, come gestire e cosa sono le malattie cardiovascolari, i polmonari, il delirium, le malattie appunto legate all'Alzheimer e così via. Allora signora è molto importante la prevenzione, è molto importante conoscere le patologie dell'età avanzata anche per vivere meglio, per sapersi gestire. Ne so qualcosa, sono al corrente, ho avuto mio marito otto anni con demenziosenile quindi su questo purtroppo c'è una conoscenza e l'ho vissuto in prima persona. L'incontro di questa sera serve a questo, a conoscere non solo le problematiche magari della demenza che non necessariamente grazie a Dio arriva, ma ci sono anche altre patologie dell'organismo che un anziano deve tenere sotto controllo. Senz'altro, senz'altro, è importante, sì. Lei si cura, fa prevenzione, sta attento? Beh sì, quello che posso fare, certamente, la prevenzione vale assai. Cioè vuol dire che il suo medico di famiglia fa i controlli e quant'altro? Sì, purtroppo quando uno è anziano ha bisogno di queste cose. L'importante però è farli di regola e prevenire. Esatto, esatto. Signor Marcello, questa sera facciamo educazione sanitaria perché bisogna conoscere le patologie dell'età avanzata e assumere comportamenti a livello di stile di vita, soprattutto, che possono prevenire eventi poco piacevoli. È giustissimo, ma in effetti ci dovrebbe essere sempre dei corsi, degli aggiornamenti, giornamenti, specialmente per noi anziani, che ci possono dare una mano, ci possono dare dei suggerimenti, no? Purtroppo non è che tutti possono sapere tutto e quindi sarebbe veramente opportuno avere questi tipi di incontri. Signora, lei si cura, fa le analisi, ha un buon rapporto col medico di famiglia? No, un buon rapporto col medico mio di base no, perché il medico di base non va bene assolutamente. Vabbè, però... Fare degli esami altrove. L'importante però è curarsi. Questo è importante, sì. Professoressa è presente, lei ha un certo livello culturale e quindi sa cosa significa fare prevenzione. È importante il momento educativo, in questo caso proprio il momento dell'educazione di dare dei consigli, delle regole di condotta salutari. Certo, è importantissimo seguire la prevenzione. Lei che tipi di controlli fa? Li faccio tutti, periodicamente, tutti i controlli che sono necessari per la mia età. Questa sera bisognerà fare scuola, nel senso che il dottor Lantone traccerà un percorso che ogni persona che ha una certa età deve seguire. Infatti io sono venuta proprio per questo, per sentire un po' il dottore cosa dice, consiglia. Signor Mario, allora, cosa si aspetta da questa serata? È una serata molto importante, senz'altro, perché la prevenzione è un fatto, diciamo, buono per la salute che uno deve conservare con gli anni che va avanti. Io sono scrupoloso e quindi, sistematicamente, vado dal mio medico e fa prescrivere quello. Dico io quello che devo fare, anche se, diciamo... Poi lui coordina, però i tempi di attesa non sono lunghi, però io mi faccio dei calcoli. Ci vogliono quattro mesi, mi prenoto quattro mesi. Quattro mesi e in modo che mi trovo meglio, quando riguarda la... È chiaro, fin quando, grazie a Dio, si può programmare, è chiaro. Poi chiaramente, toccando ferro, quando c'è un'urgenza, beh, emerge il problema delle liste d'attesa, no? Vista l'età che avanza, quindi ogni sei mesi ci facciamo un bel check-up, qualche ecografia totale. La vedo in forma. Quanti anni ha? Ottanta. Ma io, sinceramente, più di settanta non gliene avrei date. Grazie. Settanta, settantadue. Grazie, grazie.